Canary Release Strategy con Github Actions Ciao, io sono Michele e oggi vediamo un'altra strategia di rilascio chiamata la Canary Release Nei video scorsi ho fatto anche la Blue Green, ti metto il link in descrizione o qua sopra per andarla a vedere, anche perché faccio una descrizione un po' più dettagliata di quello che è la descrizione delle Github Actions e Github Workflow e vedrai anche la creazione del sorgente che utilizzerò per questo esempio, il repository è lo stesso quindi ti consiglio di andarla a vedere se non l'hai già visto la Canary Release Strategy è una strategia di rilascio delle applicazioni che ha come obiettivo primario la riduzione del rischio tante strategie di deployment implementano quello che è il concetto chiamato Progressive Exposure cioè una esposizione graduale al rischio, beh, al rischio quale? Che introduciamo dei difetti o che rendiamo scontenti i nostri utenti con delle regressioni, quindi qualcosa che prima funzionava e che adesso non funziona più o con dei problemi nuovi che scopriamo sullo strada facendo che i test non hanno rilevato quindi dicevamo esposizione progressiva del rischio, come facciamo? Bene, facciamo un disegnetto alla lavagna e vediamo come fare A proposito, sai perché si chiama Canary il nome della strategia? Te lo dico alla fine del video, andiamo avanti Se da questo video imparerai qualcosa o ti piacerà, mi raccomando metti un mi piace o iscriviti al canale così sarai notificato sui nuovi aggiornamenti Allora, partiamo da questo schema di base, qui nel rettangolo nero è il nostro data center può essere un data center, diciamo, on-prem, se ce l'abbiamo in un ufficio oppure può essere ovviamente in cloud la strategia da livello teorico non cambia nulla qui abbiamo in ingresso il nostro traffico da internet i nostri utenti arrivano da qui e entrano nella nostra piattaforma questo è l'ambiente di produzione primario, diciamo e questo lo chiamiamo un ambiente di preproduzione o un nome che ti piace di più cosa succede? Quello che facciamo è che la strategia Canary dice che prendiamo tutto questo traffico di internet e facciamo un piccolo esperimento con una percentuale e la mandiamo verso la nuova versione quindi se qui abbiamo la versione 10 della nostra applicazione qui cosa facciamo? installiamo la versione 11 e direzioniamo una parte di questo traffico una percentuale variabile, che non so, può essere un 10%, un 20% a seconda del proprio contesto questi non sono numeri assoluti ma ogni appunto ambiente o contesto, applicazione avrà dei numeri che per il proprio business hanno senso e poi rimane la grossa fetta quindi diciamo un 90% o 80% nel traffico nella versione 10 quindi stiamo andando a dire ok, io ho una nuova versione magari ci ho fatto dei test all'interno ma so che niente è come il traffico di produzione per varietà, per varietà di utenti e per varietà di situazioni che possono accadere quindi io prendo una piccola percentuale del traffico di produzione e lo split, lo divido e lo mando nel mio ambiente Canary e l'ho fatto giallo perché arriva da un canarino ma la spiegazione più tardi, a fine del video del proprio perché il nome Canary e se va tutto bene qui posso fare, posso raccogliere dati con telemetria telemetria oppure posso anche fare dei test manuali delle verifiche manuali posso mettere tutto, tutte le mie pratiche di software engineering e di DevOps che mi aiutino a raccogliere telemetria dal campo per sapere se le cose stanno andando bene se va tutto bene cosa faccio? prendo questa versione 11 e la metto anche qui andando a togliere questa sezione di traffico e andrò a servire di nuovo il 100% del mio traffico però sulla nuova versione perché sono più tranquillo però ho testato su una piccola parte di utenti veri la nuova versione questa è una linea guida diciamo è una prima implementazione di quella che può essere la Canary Registrategi ed è così che la vedremo nell'esempio che faremo tra poco con le GitHub Actions ma potrebbe essere che andiamo anche a segmentare i nostri utenti immaginiamo un contesto molto grande come può essere per esempio una Facebook o un Instagram e così via che hanno clienti in tutto il mondo utenti in tutto il mondo potremmo fare delle segmentazioni anche su base geografica per esempio molte big company che cosa fanno? sviluppano la loro applicazione il loro servizio e dividono la cosa in questo modo facciamo un esempio potrebbe essere che dividiamo i nostri clienti i nostri utenti su base geografica per esempio immaginiamo una nuova versione di Instagram magari i primi ad adottarli saranno i dipendenti i developer non i dipendenti i developer di Instagram stessi o quindi Instagram stessa che prova al suo interno l'ultimissima versione con tutte le nuovissime funzionalità per vedere se sta a buon fine al limite cosa può succedere? vabbè i developer di Instagram avranno delle difficoltà nessuno fuori dall'azienda ne saprà qualcosa se va tutto bene se va tutto bene viene promossa quella che può essere una sezione geografica degli utenti magari potrebbe essere una sezione degli Stati Uniti l'Ovest per esempio e poi così via questa strategia fino ad arrivare a ovviamente ad aver coperto tutto il globo questa strategia si chiama è un'evoluzione della Canary e si chiama una phased rollout quindi un rilascio a fasi ok basta con le chiacchiere e con i disegnetti andiamo negli ambienti di sviluppo e su GitHub implementiamo questa parte della Canary allora vediamo la Canary release strategy in azione controlliamo un attimo il contesto ho la mia applicazione che gira all'interno di un app service di Azure che è il servizio per ospitare applicazioni web che risponde attualmente all'indirizzo mfbluegrintutorial.agurewebsites.net il nome è bluegreen perché ho utilizzato la stessa risorsa anche per un tutorial sulla strategia bluegreen non è il video sbagliato vediamo effettivamente qui ho la scheda aperta che mi punta all'ambiente di preproduzione che contiene attualmente la versione 10 duplico la scheda e vediamo l'ambiente di produzione ok sono pari abbiamo entrambi la versione 10 ora andremo a fare una leggera modifica al codice mettiamo una scritta 11 qui vediamo che verrà per prima nell'ambiente di preproduzione ci assicureremo che venga impostato solo il 20% del traffico che visita il nostro sito su questa nuova versione di preproduzione facciamo una validazione manuale promuoviamo il tutto all'ambiente di produzione allora vado nei sorgenti faccio il lavoro direttamente qui da github vado dentro la pagina index e mi modifico il numerello allora da 10 qui che c'è il welcome ci metto un bello 11 faccio un commit qua sotto scrivo v11 commit changes ok a questo punto parte la action che ho già preparato e che commentiamo insieme lo vediamo qui è partita questa action o meglio questo workflow che l'ho chiamato canary.yml mentre lui gira che cosa fa compila i nostri sorgenti poi farà un deployment come abbiamo visto nella parte diciamo dei disegnetti teorica nella canary quindi nella parte di preproduzione col 20% di traffico e poi promuoviamo tutto in produzione allora il workflow è così definito abbiamo una parte di il primo job che è quella di compilazione qui e check out dei sorgenti compila l'applicazione .net la impacchetta la pubblica e la rende disponibile come artefatto nelle fasi successive del workflow qui la fase successiva l'ho chiamata deploy canary che deve rimanere però in attesa della build quindi quando è finita la build parte deploy canary che cosa fa si scarica l'artefatto fa un deploy su azure web app e nello stage di preproduzione il poi abbiamo un una riga di comando vabbè facciamo una login e poi una riga di comando dove andiamo a dire che in preproduzione qui sotto vogliamo il 20% di traffico abbiamo a zwebapp traffic routing set impostiamo una distribuzione nell'ambiente di preprod al 20% di traffico quindi circa mediamente il balancer davanti alla nostra web app 20 richieste su 100 le parterà nell'ambiente di preproduzione a questo punto ho protetto abbiamo il deployment production che avviene nell'ambiente produzione questa dichiarazione di ambiente qui è produzione in riga 114 qua sopra era development l'utilizzo degli environment quindi degli ambienti è molto utile perché che cosa ho fatto nell'ambiente production ci ho configurato un'approvazione manuale dopo vediamo come quindi questo processo parte solo quando è finito il deployment canary la parte di prima e solo quando c'è stato un mio click su un determinato pulsante che tra poco vediamo che cosa facciamo in questo ambiente facciamo di nuovo un login per poter dare i comandi che cosa facciamo un clear andiamo a pulire tutte le regole di routing quindi quel 20% che abbiamo dato perché stiamo promuovendo la nuova versione di fatto ad andare in produzione completamente quindi pulisco tutte le regole di routing e poi faccio uno slot swap quindi scambio le applicazioni e le versioni con quella che c'era in preproduzione con quella di produzione quindi la 11 mi andrà effettivamente di là allora torno indietro qui abbiamo la build completata e il deploy canary quindi io mi aspetto apro questa sessione questo browser completamente separato di avere ancora in produzione qui produzione la versione 10 infatti siamo in produzione quindi non c'è 10 nell'altra che è il preprod ho la versione 11 ora io non riesco a simulare ci possiamo provare continuo a fare f5 ma il bilanciatore si accorge che siamo sempre noi è difficile che ci venga servita la pagina dell'ambiente di preproduzione perché si accorge degli ep cose del genere sto provando degli cf5 non ci viene servita la pagina 11 dovremo la pagina con la versione 11 dovremo avere tanti client e provarlo lo prendiamo lo prendiamo sulla fiducia e comunque lo vediamo che in preprod ce l'è 11 per farvi vedere che il settaggio è andato a buon fine comunque vado dentro il portale di azure vado nel mio deployment slot e abbiamo effettivamente che è stato impostato un 80-20 quindi abbiamo il 20% del traffico che verrà servito dalla pagina dall'ambiente diciamo canary ok bene allora diciamo che il canarino resta vivo e lo promuoviamo quindi torniamo qui andiamo in review deployment quindi qui github ci dice controlla i deployment pendenti in production canary ok approvo quindi cosa succede che a questo punto vengono eseguiti tutti gli step che avevamo programmato all'interno di questo workflow quindi la pulizia delle regole di routing e poi lo scambio degli slot quindi vediamo che vadano tutte a buon fine le seguiamo passo passo abbiamo la clear traffic non dovrebbe metterci tanto restiamo in attesa nel frattempo io mi porto qui vicino la pagina di azure questa e facciamo un refresh ogni tanto vediamo no clear traffic rule non è ancora finito attendiamo ecco clear l'ha fatto quindi adesso qui nella pagina di azure mi attende un refresh uno 0% in pre è benissimo in pre prod abbiamo pulito tutte le regole siamo andati allo 0% nessuno più sta ricevendo pagine nell'ambiente di preproduzione per così dire però è anche vero che subito dopo abbiamo fatto partire uno swap quindi attendiamo anche qui questo ci dovrebbe mettere circa un minutino metto in pausa e riprendo tra poco ok qui ci ha dato tutto finito quindi prova del 9 riapriamo le pagine del browser e vediamo che ci mettiamo in quella di produzione facciamo un f5 dovremo vedere 11 perfetto ci mettiamo di qua in quella di preproduzione dovremo vedere 10 esatto però vi ricordo qui lo vediamo perché io ci sto entrando forzatamente ok chi entra da questo end point non verrà mai più rindirizzato nella versione 10 perché abbiamo pulito le regole di routing eccoci qua esercizio completato benissimo ce l'abbiamo fatta abbiamo implementato la canary release strategy su github actions ora mantengo la mia promessa si chiama canary release perché prende il nome da una pratica che c'era nelle miniere dove si mandava avanti una persona con una gabbia con dentro un canarino perché se eventuali aria dannosa o velenosa dovuta dalle esalazioni della miniera avrebbero ucciso il canarino e non le persone perché appunto il canarino ne avrebbe risentito prima e quindi sarebbero fuggiti da quella parte della miniera ecco perché canary release strategy bene per oggi ci fermiamo qui fammi sapere cosa ne pensi dei commenti e alla prossima